5 misure cautelari, 2 in carcere e 3 ai domiciliari per altrettanti cittadini rumeni che avevano costituito un'associazione finalizzata ai furti di caldai e altre attrezzature da abitazioni appena ricostruite e cantieri del centro dell'Aquila. Il materiale veniva rivenduto al mercato nero di Roma. Una caldaia da 4-5 mila euro rubata in qualche casa appena ricostruita del centro storico dell'Aquila veniva rivenduta a circa mille euro dopo opportuna pubblicità che veniva effettuata attraverso messaggi whatsapp. In 5 tutti i cittadini rumeni già noti alle forze dell'ordine sono così finiti nel mirino dei carabinieri che dopo una scrupolosa attività di indagine nella notte di mercoledì 23 gennaio li hanno arrestati su disposizione della procura che ne ha condiviso le risultanze investigative. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti in conferenza stampa dal maggiore Luigi Balestra comandante della compagnia carabinieri dell'Aquila e dal tenente Maximiliano Papale comandante del nucleo operativo e radiomobile della stessa compagnia. Come spiegato dal maggiore Balestra i ladri avevano messo a punto un'articolata strategia per non essere scoperti. I furti infatti erano tutti preceduti da un'accurata attività di sopralluogo finalizzata all'individuazione delle abitazioni da derubare tutte accomunate da un minimo comune denominatore e cioè abitazioni ristrutturate in seguito al sisma del 2009 e non ancora abitate dai legittimi proprietari. Questa scelta permetteva loro di agire indisturbati all'interno delle abitazioni senza correre il rischio di essere sorpresi dal rientro dei proprietari. Nel corso dell'AID i ladri hanno asportato anche numerosi punti luce, impianti elettrici e impianti di domotica. Oltre a 12 furti di questo tipo all'organizzazione sono imputati anche numerosi furti all'interno dei cantieri della ricostruzione da cui sottraevano attrezzature e materiali costosi oltre a nove episodi di ricettazione e tre furti d'auto commessi nel Lazio. Brutta avventura ieri sera all'Aquila in pieno centro storico. Vittima una coppia di giovani che sarebbe stata inseguita da via Verdi fino a via Tempera da un gruppo di giovani. A questo punto gli inseguitori e alcuni minorenni hanno aggredito il ragazzo della coppia FG, queste le sue iniziali, appena maggiorenne e si è dunque scatenato una rissa. Il ragazzo, dopo essere stato scaraventato a terra, è stato malmenato e preso a calci. Sono state allertate le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute identificando e interrogando i protagonisti della vicenda e anche i testimoni. Il ragazzo, vittima dell'aggressione, sarebbe stato trasportato all'ospedale San Salvatore in ambulanza con diversi traumi al volto ma le lesioni non sarebbero gravi stando a quanto riportato dai carabinieri. La ragazza non sarebbe rimasta ferita nello scontro mentre sarebbe stato portato al pronto soccorso anche uno degli aggressori colpito dal ragazzo nel tentativo di difendersi. Lutto nella città dell'Aquila per la scomparsa del professor Gaspare Carta, stimato ginecologo, professore universitario ed ex primario del reparto di ginecologia dell'ospedale dell'Aquila. Aveva dovuto lasciare i suoi incarichi in ospedale e in università per contrastare la malattia che negli ultimi anni si era accanita senza tregua. Se ne va un grande professionista, così viene ricordato in tutti gli ambienti che esprimono cordoglio per la sua scomparsa. 37 nuovi autobus per tua SPA. I messi immediatamente in esercizio, i nuovi autobus sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa nella serie di Pescara di Tua. Nello specifico si tratta di 17 autobus Iveco da 12 metri, di 14 mezzi Iveco di 10,7 metri e di 6 autobus Scania a 12,2 metri alimentati a metano. Il rinnovo dei nuovi autobus permetterà Tua di abbassare in modo consistente l'età media dei mezzi, passando da quasi 13 anni a poco più di 9 anni, dato quest'ultimo in linea con gli standard europei. La prossima fornitura sarà di altri 75 nuovi autobus previsti tra l'inizio dell'estate e la fine di settembre 2019. Quella successiva prevede ulteriori 94 autobus per il primo semestre 2020. I nuovi 37 autobus sono stati assegnati a diverse zone abruzzesi. Sei opereranno in provincia di Chieti, nove in quella di Pescara, con l'utilizzo di sei mezzi a metano nel capologo adriatico, otto in provincia di Teramo e quattordici in provincia dell'Aquila, di cui tre nel capoluogo di regione, tre nell'area di Sulmona e sei nell'area marsicana. L'investimento complessivo per l'acquisto dei 206 autobus ammonta a 47,8 milioni di euro, di cui 13,1 a carico di tua.